Ieri è stato il 38esimo sbarco nella Locride negli ultimi 100 giorni. A Roccella è il 34esimo dei 38 sbarchi totali. Una barca a vela carica dei migranti era stata intercettata ieri mattina a largo di Badolato Marina. Sul posto era subito intervenuta la motovedetta CP 326 della Guardia Costiera di Roccella Ionica diretta dal comandante e il tenente di Vascello Tommaso D'Arpino. Avevano chiesto aiuto tramite numeri di emergenza ai 79 migranti prima di essere soccorsi e trasbordati per essere poi trasportati in salvo al Porto delle Grazie di Roccella Ionica a metà mattinata. Successivamente, dopo le operazioni di identificazione a cura della Polizia di Stato, sono stati trasportati al centro di primo soccorso messo a disposizione dall'amministrazione comunale di Roccella Ionica. Ormai gli sbarchi non sono più un'eccezionalità, ma avvengono continuamente, quasi un giorno sì e un giorno no, e le forze dell'ordine sono allo stremo, così come i volontari della protezione civile e della Croce Rossa, che devono intervenire in maniera repentina e continuativa. Le forze di Polizia continuano a lamentare carenza di personale e il problema continua a ripetersi, sbarco dopo sbarco, tutto in emergenza. La stessa cosa vale per le carrette del mare, che spesso si accumulano, occupando i posti barca nel Porto delle Grazie, ma anche collocati sul piazzale. Da pochi giorni è iniziata anche l'attività di demolizione, autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri.